Allora, se vi interessa, quei due signori che vedrete poi, che ho filmato prima, adesso cosa potevano dirmi? Ma Sandro, vada che l'abbia smorzato e che il telefono... L'ho spento. E' spento? Parese? E' spento, è spento. Quindi ho fatto il mio dovere. Allora, veniamo all'argomento. Allora, qualcuno mi ha fatto un'osservazione. Ma Sandro Tamanini, ma lui non è che va proprio in bagnette. Ma lo sa che i giardini non va bene, il sindaco non va bene, quell'altro non va bene, le galassie che mette in dubbio la fede. Ci dica anche qualcosa di propositivo. Allora, ero disposto, sono partito, ho detto oggi vado, o qualcosa. Ma cosa può essere successo? Allora, mi arriva una lettera raccomandata dall'Agenzia delle imposte. E cosa ci poteva essere? Dico io, se c'è qualcosa, qualche erogna, te vedrai, no, in pagà, ci sarà qualche multa e verranno a fare un controllo. No, 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 no. Mi davano soldi. Rimborso. Adesso il rimborso era di 37,80 euro. Io prego questi ascoltatori che se avete un amico politico, se avete qualcuno che conosce il Fravesi, che conosce, non so, il Panizza, che conosce il Divina, riferite quello che vi sto dicendo. Apro la lettera e c'è scritto. Rimborso di euro 37,80 relativi all'anno 2007. 2007. Sarà 2017. 2007. Allora ho fatto due conti. Ho detto, per andare a vedere questi 37,80, gli avrà perso un po' di tempo, eh? E per scrivere la lettera, gli avrà perso un po' di tempo. Le sarà anche lettere standard, ma il 37,80 gliel'avrà dovuto scrivere anche nella lettera standard. Avranno dovuto perdere del tempo per imbustarla e poi per mandarmela raccomandata, perché non si può una lettera così mandarla semplice. Ma volete scanzare, bisogna essere sicuri che quella lettera arriva. Non basta. Io potevo andare a riscuotere i 37,80, dove? Alla posta. Ma per andare a riscuotere la posta, che cosa dovevo presentare? Secondo voi? Carta d'identità e tessera sanitaria. Probabilmente voleva sapere se era la SAM, se credeva a uno che era giusto o no. Dopo ho pensato, forse c'è il codice fiscale e per questo. Ma io credo che facendo la somma di tutto quello che ho detto, il tempo che ha perso a trovare i 37,80, il tempo che ha scritto la lettera, il tempo che l'ha bugata, il tempo che l'ha arrivata, il tempo che l'ha arrivata, ci hanno rimesso. Ci hanno rimesso. Allora mi è venuto in mente il professor Turini. Ad Arco c'è un professore che insegna in Germania, nella grande Germania, è preside di una scuola, non so se adesso c'è in pensione, comunque è preside in una scuola Turini, deve essere il figlio, Sergio Turini, vero? Che insegna a dove? È in pensione. È in pensione? Ma dove insegnava? A Norimberga? A Toccarda. Insegnava a Toccarda. Allora un giorno l'ho incontrato e si parlava della dittatura della burocrazia italiana. Pensate che lui ha ricevuto il pagamento delle imposte, si è accorto che c'era un errore. Lo stesso giorno è andato nell'ufficio, la signorina o l'impiegato che c'era ha guardato sul computer. Lei ha ragione, qui c'è stato un errore perché è stato messo nella riga di sotto, questo è un errore tecnico. 30 euro, 50 euro, 1000 euro, rimborsati seduta stante, seduta stante. E allora cari signori, qui lasciate ogni speranza, voi che entrate e diceva quell'altro che sta a Dante, non c'è speranza. Allora tante volte ho pensato ma, ma Hitler, Mussolini, De Gaulle, questa gente che è arrivata al potere e hanno fatto i dittatori, ma saranno andati su perché aveva le paturnie? Saranno andati su perché erano dei pazzi o avranno avuto delle motivazioni? Allora io mi domando, ma se Grillo anziché essere un comico, anziché andare a San Francesco a sostituirsi al santo e a diventare Santo Lù, fosse stato del carattere di Mao Zedong, per esempio, oppure di Mussolini, che cosa succederebbe oggi? Probabilmente. El Faria è un gran polverone perché la polizia, i carabinieri, la guardia di finanza, i sommostatori dei carabinieri, i sommostatori della polizia, i sommostatori della guardia di finanza, i reparti antisommoso dei carabinieri, della polizia, della guardia di finanza, la guardia di finanza, Gesù che la rampega ancora, quelli che vi ho citato, Gesù che i rampega perché che è il soccorso alpino, perché se c'è per caso un evasore fiscale che si è arrampicato sul monte, come se Ciameli qui, beh, Brento no, sul monte Brento ci deve essere il soccorso alpino che lo va a prendere per portarlo a pagare l'imposta. questo è il compito principale della guardia di finanza, per questo motivo sono stati creati i rapporti del soccorso alpino, per prendere quei evasori fiscali che si arampicano. Non ho altro da aggiungere, ripeto, 2007, per chi non l'avesse ben capito, 10 anni fa, roba da passi, beh. Salve!